Ciao, creatura. Io sono Eccate Splendente e benvenuta o bentornata nel regno di Gullai e S.M.A. Siamo al terzo capitolo di Queen of Earth, la regina di cuori, e se non hai visto l'altro episodio te lo lascio nelle schede e proseguiamo. E quindi noi dovremmo andare al castello per incontrarci col principe, ma in realtà adesso dove siamo? A casa nostra. Ok, torni alla tua camera da letto, cercando di processare ciò che ti ha detto tua mamma. Devo parlarne con Alicia e mandiamo un messaggio ad Alicia. Anzi, è lei che ci manda un messaggio. Cosa è successo a tua mamma? Va tutto bene? Mi ha dato una notizia difficile. Ha il cancro. Oh, santo cielo, mi dispiace. Non è tutto. Mi ha detto che facevamo parte della Corte Reale. Apparteneva alla famiglia di Ice Brides. Wow, assi, assurdo. C'è altro. Vuole che mi unisca alla corte con l'emozio. Non ci credo, quindi vuole che incontri il principe. Non solo incontrarlo, vuole che competta per la sua mano. Assurdo, vero? Tutto questo è fantastico. Posso insegnarti tutto quello che so. Devo chiamarti miletti da oggi. Anzi, da oggi senza punti domani. Oh, ti prego no, ma un po' di aiuto non sarebbe male. Certo, sarai pronta per la corte in me che non si dica. La 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 la. Cos'è la la la? Vabbè, fuori la sua amica. E' un'altra cosa. Altro suspense. Suspense. Ma sono io. Ma riesci a vedere, sì. Mia mamma ha un passato oscuro a corte. La corte reale è praticamente acqua torbida. Non mi sorprende. Ma non preoccuparti. Ti guardo le spalle. Andiamo bene. Grazie, migliore amica. Colizzino. Vuoi dire, migliorissima amica per sempre. Ora dormi un po'. Dobbiamo prep a fondo, Tom. E' anche un po' bimbo minchiesa. Alicia arriva a casa tua direttamente dal lavoro. Cerchi di preparare le valigie in totale angoscia. Pensavo fossi pronta ad andare. Lo so, lo so. Sono solo indecisa su cosa portarmi. Ark è diventato un pirata. Sono così agitato. Spiccherò come... Non preoccuparti. Sarei attrezzata breve. Cosa hai in mente di indossare quando arriverà il castello? Ecco, mia madre mi ha fatto un regalo. E' in quella scatola laggiù. Non l'ho ancora aperto. Alicia prende la scatola bianca, sigillata con un fiocco rosa. Alicia toglie il vestito dalla scatola, restando senza parole. Oh mio Dio, è magnifico. Wow, non me lo aspettavo. Alicia tiene il vestito sollevato per ammirarlo. E' un vestito elegante, color smirato. Costellato di gioielli. C'è un biglietto. Dice che questo era il vestito da diputtante di tua mamma. Non riesco a credere che mia mamma mi darebbe questo. E' stupendo. Mi sento così male. No. Fa sembrare il vestito che ti ho comprato. Fa sembrare il vestito che ti ho comprato. Un abbigliamento da contadina. Mi hai comprato un vestito. Non entusiasmarti troppo. Non è come questo. Alicia pesca dalla borsa un vestito. Tenendo sollevata. Tenendo sollevata uno strascico rosso vagamente stroppeggiato. E' abbastanza comune. Ma pensavo fosse meglio di niente. Che stile sceglierai per il ballo di benvenuto? E me lo chiedi? C'è. Hot. Ma che hot sembra una cosa? Questo è verde. Scusami. Scegliamo questo. Devo guardare due video. Boom boom. Fatto. Comprato. Perfect. Sei così bella. Inizio a desiderare di avere conoscenze nobili. Ehi. Può prendere il vestito. Può prendere. Chi? Il vestito quando vuoi. Un po' tradotto alla minima. Il vestito per la prima impressione è finalmente fuori discussione. Ma c'è un'altra cosa che ti tormenta. Ho bisogno di sapere un sacco di cose prima di andare. Lascia fare a me. Cosa vuoi sapere? Riguardo la famiglia reale. Riguardo persone amichevoli a corte. Allora. Tachiamo sulla famiglia reale. Come dovrei rivolgermi ai membri della famiglia reale? Bella domanda. Prima regola. Prima regola. Non rivolgerti a loro senza prima riferirli. Mai, mai. Beh, suppongo che se vuoi sposare il principe questo cambierà. Ma per ora si rispettosa. Capito? Qualcos'altro? Dovrai rivolgerti alla regina come vostra altezza e il principe per lui. Andrà bene il principe John, Don. Osserva le altre lady e guarda come si comportano. Ti aiuterà molto. Ma che consiglio è? Guarda gli altri. Cioè, ci arrivavo anch'io fino a lì. Ok. Credo di aver capito. C'è qualcos'altro che dovrei sapere. Sinceramente, credo che sarà un processo di apprendimento. Sento che sarò a danni luce da tutti gli altri. Non pensarci troppo. Sei tu che decidi come fare. Hai ragione. Devo essere positiva. Ecco, cosa voglio sentire. Forza. Andiamo a prepararti. Ma se ero già pronta. Tu ed Alicia vi dirigete verso i prati con le valigie ad aspettare il trasporto regale. Sai, sarà strano. Andrà al lavoro sapendo che anche tu sei al castello. Immagino. Credi davvero che andrà tutto bene? Certo che sì. Puoi fare tutto se lo vuoi davvero. Ma seriamente, non mi renderò ridicola, vero? Per l'ultima volta, no. Questi saranno i giorni più belli addirittura della tua vita. Quindi, goditeli. Anche se il principe penso che sono un rosbo e se ti baciasse e diventassi una principessa, come nelle favole. Ma non hai bisogno del principe per diventare una principessa? Che insegnamenti maschilisti, no? Tua mamma si unisce a voi nel giardino frontale. Pronta a partire, mia cara? Vorrei tanto non doverti lasciare da sola. Non preoccuparti per me. Concentrati sul principe. Ma che insegnamenti suono. So che voi due andrete d'accordo, da subito. Sarà suo fratello. No, magari sono stato spoilerato. Lo penso anch'io. Non ne sono tanto sicuro. Diciamo, non ne sono tanto. Dovremmo essere più positivi. Ma mettiamo, non ne sono tanto sicuro. Scommetto che sono un altro nobile pomposo e arrogante. Non proprio. E poi è bellissimo. Copre la mancanza di carattere. Ma questo insegnamento è, non è vero? Non ci proverei mai con un uomo fastidioso solo perché è un principe. Hai detto bene, sorella. Ma credo che Jonathan ti piacerà. Prrrr, l'ansia mi sta facendo venire i brividi. Cavalcherai lo stile nel castello e suona già male così. Concentrati su questo. Ha ragione e poi non è niente da perdere. Effettivamente sarà un'avventura in ogni caso. Adorerai il castello. È stupefacente. E il cibo alle feste. Io andrei solo per il cibo. Dove lo dico. E la musica nella sala da ballo. E i giardini nelle giornate di sole. Ah, forse anche per i giardini. Tua mamma e Alicia sospirano all'unisono. E non puoi fare altro che ridere. Ok, voi due. Mi avete convinta. Grazie al cielo. Iniziavo a pensare di doverti trascinare per i capelli. Mentre parla. Senti un rumore di motore. Sparisce e riappare. Una limousine bianca, elegante, si ferma davanti alla casa e rimani a bocca aperta. Ok? Tutto questo è fichissimo. Questo è solo l'inizio. Ti aiuto a caricare le cose in macchina. Così saluti tua mamma. Mentre Alicia saluta l'autista. Ti volti verso tua mamma. Sta per piangere. Mamma, non piangere. Sono lacrime di gioia. Non vedo l'ora che sperimenti la vita di corte. Te lo meriti. Sei triste, sei felice. Sei felice, dai, appunto. A caso. Grazie per avermi costretto a farlo. Come? Come momento. Non devi ringraziarmi. Invece sì. Senza di te starei ancora lavorando. Dalle nove alle cinque al bar. E ora sto per andare ad un castello. Sei adatta a quella vita come tutti loro. Grazie, mamma. Mi mancherai tantissimo. Prima di andare. Credo che dovresti dire. Credo che dovrei dirti. Di cosa dovresti essere diffidente. La gente che incontrerai. Non tutti sono affidabili. Ma dai, come nella vita di tutti i giorni. Se vuoi sopravvivere, devi essere vigilante. Tieni gli occhi aperti. Sappi che sono i tuoi amici. Ma conosci meglio i tuoi nemici. Alicia apri la porta dell'animusine. Girandoti verso di te. Girandoti verso di te. Ok. Ce la farai, cara. Ricorda. Ce l'hai nel sangue. Abbracci forte tua madre prima di girarti verso Alicia e la macchina. Ci vediamo dall'altra parte, partner. Fai un respiro profondo ed entri. La macchina parte verso una nuova avventura. Capitolo 4 Arrivi al castello incapace di togliergli gli occhi di dosso. Il magnifico palazzo in pietra grigia con il famoso lago. Da cui Shallow Silver prende il suo nome e ti dar benvenuto. Wow. Non l'avevo mai visto da così vicino. È così bello. Sei impressionata? Impressionata è dire poco. A volte non riesco a credere di lavorare qui. Farò in modo di portarti del cibo. Si entusiasma, si nervosa. Mi ha detto che mi porta del cibo, quindi si entusiasta. Conto che il cibo sia buonissimo. Non sarei delusa. Almeno, se non fai colpa sul principe, avrai la possibilità di assaggiare un po' di cibo. Che discorso incoraggiante, Alicia. Ah, ah, lo penso anch'io. Senti, Antonia. Devo andare, ma ci vediamo dentro, ok? Buona fortuna. Alicia si allontana e ti sistemi il vestito. Ecco qui. Sei così bello fuori. Non riesco a immaginarmi come sia dentro. Cerchi di tenere gli occhi nelle orbite mentre entri nella sala da balla. Ammiri la grande scalinata e il lampadario di cristallo sopra di te. Ti muovi lentamente per ammirare tutto. Potrei passare giorni qui e non sapere dove sto andando. Immagino debba provare ad arrivare alla sala da balla. All'improvviso inciampi e cadi su una donna davanti a te come me. Ehi, guarda dove vai. Ero solo. Solo cosa? Coppa. Ecco cos'eri. Scommetto che sei nuova qui. Non hai nessun decoro. Tu mi apronti un po' di questo. Non sai chi sono? Mi dispiace e non so chi tu sia. Certo che no. Sei ovviamente una ragazzetta di campagna. Scusate. Sono Rosetta di Stonefield. Ti dici qualcosa? Err. Non sai proprio niente, è vero? Senti, non so quale sia il tuo problema, ma stai facendo una scenata. Rosetta si guarda attorno e capisce che la gente la sta fissando. Arrossisce. Beh, se fossi stata un po' più attenta, questo non sarebbe mai successo. Possiamo finirla? Certo che no. Il tuo comportamento è imbarzante. Ma perché non me lo stai chiedendo? O il mio? Non parlarmi. Non mi farò vedere in tua presenza. Rosetta ti gira le spalle e scatta con fiducia nella sala da ballo. Fai qualche passo indietro, riluttante di entrare nella sala da ballo. Mi chiedo se tutte le nobili ledi siano come lei. Potrei semplicemente andare a casa. Ti guardi attorno e scuoti la testa. Posso farcela? Non mi tirerò indietro alla prima difficoltà. Ma sì, sei solo inciampata su un'antipatica. Tieni la testa alta e cerchi di sembrare sicura mentre cammini verso la sala da ballo. Resti sola dentro la sala da ballo, stringendo le mani assieme e chiedendoti come procedere. Ti guardi attorno in cerca di faccia, Micheoli. Trovi Rosetta dall'altra parte della sala e rapprivedisci. Credo che preferirei nuotare in acqua infestate da squali. Più che essere qui... Ethan, oh my god! Più che essere qui... Non potrei essere più d'accordo. C'è un ragazzo giovane in piedi che ti sorride. Arrossisci, sorpresa. O cielo, non riesco a credere che mi abbia vista parlare da sola. Sciocchezze, parlare da soli può essere divertente. Specialmente in una stanza piena di snob. Che ragazzo ti offre la mano per stringergela? E lo fai? Felice che almeno qualcuno sia amichevole. Attenzione a quelli amichevoli che sono quei primi che te lo mettono nel sedere. Ethan. No, mi chiamo Ethan. Io sono Antonia. Piacere di conoscerti. Posso chiederti da dove vieni? Non ti ho mai vista qui intorno. A dire la verità, non sono come le altre lady. Vivo in città. Ma mia madre faceva parte del clan di Hydebride. Il castello abbandonato. Hai una storia familiare interessante. Puoi dirlo forte? Baby, immagino voi. Cosa ti porta qui? Allora, se posso. Avventura, amore. Avventura? Cerco avventura. Ah, una fuga dalla vita di una piccola città. Già, lavoro dalle nove alle cinque in un bar. Credo di stare cercando un po' di eccitamento, anche se solo per poco. Una missione ammirabile. Una con la quale non ho molta familiarità. Beh, ora sai di me. Parlami di te. Non c'è molto da dire. Sono sicuro che non è vero. Beh, non sono un principe. Questo è certo. Cosa importa? Cui importa è come. Nota come nessuna di queste nobili lady sia interessata a parlarmi. Sono tiranco troppo basso per essere considerato. Ah, spiegato. Ma io ti sto parlando. Oh, non intendevo mancarti di rispetto. Lo so, sto solo dicendo che le altre donne qui hanno solo una cosa per la testa. Precisamente. Ma incontrare il principe è un immenso onore. Tende a stare per le sue. Cosa significa? Beh, non è mai stato amante della corte. Ma ora che sua madre deve ritirarsi è ora che si faccia avanti nel mondo della regina, non il mio. Sembra una grossa responsabilità. Avere sangue nobile ai suoi lati negativi non è tutto ricchezze e glorie, come la maggior parte delle persone pensa. Non importa, credo di sì. Non importa. Voglio comunque essere la sua regina. Sei ambiziosa. È ammirabile. Sono pronta a dimostrare chi sono. Spero tanto che trovi ciò che il tuo cuore desidera. I soldi. Partono degli applausi mentre la regina sale sul palco per fare il suo discorso. La mano di Ethan tocca accidentalmente la tua. Guarda da un'altra parte imbarazzato. Questo è il momento per andarmene. Dovrò costringere il principe ad uscire dal suo nascondiglio. È così riluttante ad essere qui. Gli piace semplicemente fare i capricci. Questo è il tuo principe. Quando potremo parlare di nuovo? Non preoccuparti, Milady. Farò in modo di rivederti molto presto. Idan ti prende la mano e la bacia gentilmente prima di correre a cercare il principe. Rivolge la tua attenzione alla regina mentre l'applauso finisce. Buonasera e benvenute a tutte... Devo cambiare le voci. Spero che tutte voi siate di ottimo umore. Prima non avevo questa voce, però non importa. Voglio rivolgermi in particolare alle ledi che sono venute qui per conquistare la mano del principe. A voi dico ciao e inoltre buona fortuna. Sarà meglio che ascolti attentamente o non saprò cosa fare. Queste prossime settimane sono pensate per mettervi alla prova e valutarvi. Anche se ho avuto un ottimo regno senza marito, credo che mio figlio abbia bisogno di una guida durante il suo regno. Wow, molto paternale, povero Jonathan. Chiunque sposi mio figlio deve essere forte nel corpo e nello spirito. Le ledi di corte che non rispettano questa descrizione possono considerare di andarsene immediatamente. Realisti immediatamente di sapere che non sei adatta all'ambiente, ma resti dove sei. Io in ogni situazione della mia vita. Renderò orgogliosa mia mamma. Vedo una sala piena di bellissime donne, ma non è abbastanza per salire al trono. Mi aspetto molto da voi e voi dovreste aspettarvi di essere messa alla prova in vari modi. Mi chiedo cosa voglia dire. Per coloro che se lo chiedono, questa sessione alla corte non sarà solo cene e incontri, anche se saranno estremamente presenti. Mi aspetto che tutte voi vi allegnate come guerriere. Questo significa che dovete imparare a maneggiare una spada se non lo avete già fatto. Aspetta, cosa? Alicia, ti passo vicino con un vassoio di assaggini. Ti gira attorno, parlando a bassa voce. Ehi, ti ho promesso degli assaggini. Voilà. Sono nel panico. Adesso me li porto agli assaggini. Cosa? Perché? Ha detto che devo allenarmi nel combattimento con spada. Certo che devi farlo. È come un club dopo scuola per lord e lady. Dici che tutti quanti qui dentro sanno usare una spada? Beh, tutti tranne te. Anche io ho provato una volta. Adeparino. Cosa farò? Devi superare il discorso prima. Non lasciarmi qui. Ho un lavoro da svolgere. Ci vediamo dopo. Mentre Alicia si allontana per dare altri assaggini. Ti mordi il labbro. Come reagisci? Lascia che le tue paure prendano il sopravvento. Fai la spavald. Allora, nei momenti in cui sono più agitata in mezzo alle persone, di solito mi gonfio e quindi faccio la spavolta. Anche se il tuo cuore batte più veloce del normale, tieni la testa alta. La regina cattura il tuo sguardo e fa un cenno di approvazione. È bello vedere così tante facce sicure nel pubblico. Sì, a me di solito mi dicono guarda com'è calma Marta. Io invece dentro di me sto morendo. Fantastico. Perfetto. Ora che abbiamo una visione migliore di come le cose andranno, le cose qui attorno, c'è solo una cosa da fare. È ora che vi presenti mio figlio. Ed erede al trono il principe Jonathan. Ok? Il principe lo vedrai nella prossima puntata. Quindi ti auguro buonanotte, buon relax, ciao creatura.